Siamo in una fase di stallo, si sta arrivando molto complicato, più complicato del previsto. Ci sono tante questioni su cui ancora stiamo discutendo che non riusciamo a sciogliere. Sto invitando tutti però a convergere verso un obiettivo comune, quello di approvare Next Generation EU, che è un programma per la ripresa europea, non solo dei paesi più colpiti, ma di tutta l'Europa. E poi ovviamente stanno ragionando sul quadro finanziario pluriennale, sarebbe il bilancio dei prossimi sette anni. Le partite in discussione sono molteplici, questo rende molto complicato questo passaggio. Per esempio si sta discutendo per quanto riguarda Next Generation l'ammontare ancora totale. Alcuni Stati, non molti, pochi, mettono in discussione l'ammontare dei sussidi.